vediamo se ci siamo buongiorno siamo live sul gruppo sistema richfit buongiorno ragazzi qui super logati oggi per l'occasione per stare insieme per darvi anche alcuni aggiornamenti adesso facciamo dei piccoli check per capire innanzitutto se realmente siamo insieme soprattutto se siamo live quindi se avete l'opportunità fatemi sapere velocemente se riuscite a vedermi a sentirmi nella maniera corretta così da partire questa live dal nome just do it che abbiamo preso e rubato direttamente da nike ma nike ci perdonerà se utilizziamo un suo slogan del passato per renderlo attuale oggi per ogni imprenditore del fitness adesso andiamo a vedere subito live se ci siamo stanghete stanghete e soprattutto se riuscite a sentirmi nella maniera corretta io questo lo saprò e lo scoprirò durante ma vediamo subito vediamo subito se facebook si è ricordato di far sapere che siamo live e adesso vediamo ok bene 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 sembra sembra proprio di sì che siamo live c'è rosario che dice buongiorno rosario alessandra buongiorno dice ci siamo perfetto quindi adesso vediamo alcune news dal mondo di rich fit e in particolar modo in questo periodo abbastanza delicato e dall'altra parte la formula just do it appunto che abbiamo rubato a nike in occasione di c'è lo stiamo rubando proprio in maniera assolutamente positiva per noi quindi adesso andiamo a vedere cosa accadrà ciao mano tutto ok perfetto perfetto ragazzi innanzitutto buongiorno 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 iniziamo la nostra live proprio in questo istante andiamo a capire comprendere alcuni passaggi importanti più delle news fondamentali o meglio dei contenuti che verranno proprio erogati distribuiti nella giornata di oggi e quindi piccola nota informativa di quella che sarà la giornata di oggi questo 28 di febbraio totalmente a disposizione come sempre degli imprenditori del fitness quindi partiamo con la nostra colazione insieme e a proposito di questo tra un'oretta circa in ritardo di ben due ore due ore e mezzo uscirà il rich fit breakfast quindi il podcast questa mattina un podcast veramente super figo anche perché insieme a paolo abbiamo analizzato e visto tutta la scala del rapporto assolutamente fondamentale quando si parla di vendita e lo vedremo proprio oggi scrivetemi anche per favore da dove in questo momento state scrivendo cioè nel senso che siete in palestra siete aperti siete chiusi siete mezzo aperti eccetera eccetera o quantomeno basta scrivermi la città dove scrivete riesco facilmente a comprendere qual è la situazione attuale che cosa in pratica sta succedendo in realtà just do it è qualcosa di veramente importante tradotto in italiano anche se lo sanno tutti mi piace ripeterlo è proprio fallo fallo e basta cioè quindi proprio il fatto del fare e credo che sia qualcosa di veramente importante in questo periodo e ci collega in maniera seria a quello che dovremmo realmente fare in queste giornate e in realtà dovremmo farlo sempre perché perché in queste giornate l'unica differenza reale è che sentiamo più importanti determinate cose o meglio sentiamo l'importanza visto l'assenza e adesso mi spiego meglio mai come in questi giorni è stato fondamentale veramente fondamentale avere un crm avere un database aggiornato avere tutti i dati dei nostri utenti vecchi e nuovi quindi avere una lista fra lista clienti attivi lista ex clienti viste persone che sono venute a chiedere informazioni lista di persone che hanno chiesto informazioni online qualora abbiamo dei sistemi online quindi mai come in questo periodo avere dei canali privati è stato assolutamente importante importante perché perché chiaramente in questo momento dove l'attenzione online è focalizzata in altro è una serie di problematiche e purtroppo come abbiamo visto in questi giorni quindi non ci ritorno la paura della paura è un crescendo per alcuni mentre per altri per fortuna incomincia la fase di discesa avere un canale prioritario ci dà l'opportunità di comunicare un canale privato ci dà l'opportunità di comunicare in maniera diretta ai nostri clienti c'è la possibilità di poter comunicare via mail via whatsapp via sms via telefono e direttamente con i nostri clienti e avere alcuni strumenti diventa fondamentale come il blog per esempio per poter informare e dare informazioni rispetto a quelli che sono anche i trend che in questo momento vanno in giro e quindi poter dare anche le giuste informazioni ai nostri utenti i nostri clienti sai quando molti dicono contenuti di valore contro di valore ragazzi in questo momento b come sempre in realtà cioè non è che cambia questo momento un momento di riflessione ci fa comprendere ma è uguale cioè dovrebbe essere sempre così noi consideriamo che se vogliamo davvero essere d'aiuto ai nostri clienti dobbiamo essere una risorsa vera e quindi percepiti di conseguenza come una risorsa saremo quel punto di riferimento per i nostri clienti per avere aggiornamenti per avere news per sapere cosa fare quindi avere una leadership anche da questo punto di vista significa essere una risorsa una risorsa non è soltanto il titolare o la palestra in sé per sé ma tutte le persone poi che in realtà ci lavorano dentro quindi essere veramente al primo posto nella mente dei nostri clienti per quanto riguarda il tutto e mai come in questo periodo visto tutto quello che sta succedendo le proma sconto sono state la cosa più inutile e distruttiva che si potesse mai fare sto leggendo in giro per il web una serie di persone che scrivo che scrivono riescano a campare solo grazie al fatto che stanno facendo sconti a bestia mi sembra una cosa allucinante perché al contrario io posso garantire che abbiamo club che in questo momento stanno mantenendo il fatturato nonostante tutto quello che succede perché perché ci si basa su un qualcosa che vedremo più avanti ma la cosa più importante qual è quello di iniziare a capire che se vogliamo davvero essere una risorsa dobbiamo esserlo davvero dobbiamo lavorare per i nostri clienti con i nostri clienti dare quel servizio come ho detto anche con alcuni consigli nelle prime live di questa settimana ma soprattutto in realtà farlo in maniera costante incessante su tutti quelli che possono essere gli interessi dei nostri clienti interessi dei nostri già clienti e gli interessi dei nostri potenziali clienti pensando sempre non a tutto il mondo ma imparando a comprendere che dobbiamo restringere il focus e dobbiamo incominciare a capire che dobbiamo parlare realmente con le persone che sono poi più in target con quello che è la nostra palestra e ripeto alcune cose serviranno più oggi altre cose serviranno più dopo domani altre cose si sarebbero dovute fare già da ieri ma come sempre il momento migliore per iniziare probabilmente era quando avete aperto il secondo momento migliore è oggi per questo partiamo dal just do it cioè iniziamo a fare le cose iniziamo da oggi a entrare in un rapporto completamente diverso col nostro club e quindi anche quando parliamo di marketing cominciamo avere delle priorità incominciamo a comprendere che dobbiamo da una parte pianificare dall'altra operare quindi fare e qui iniziamo proprio col concetto di preparazione ok questo dovrebbe essere secondo me una legge non un consiglio dovrebbe essere qualcosa imposto dall'alto o quantomeno auto imposto da ognuno di noi preparazione è fondamentale noi la utilizziamo spesso lato tecnico però poi lato imprenditoriale poi lato marketing ancora ne vedo veramente poca qual è la grande differenza essere preparati vuol dire lavorare ancora prima di fare e questo però non ci deve portare quindi piccol disclaimer alla paralisi da analisi cioè va bene che da una parte bisogna assolutamente prepararsi e non andare alla cazzo fuori lì a dire ok adesso facciamo questo da domani facciamo quest'altro e cambiamo sempre idea dall'altra ancora non significa che alla ricerca della perfezione assoluta non faremo nulla fin quando non saremo perfetti come al solito vige la legge del buonsenso anche in questo caso quindi comprendere che non si parte alla cazzo ma non si rimane neanche fermi nella speranza che si trovi si arrivi alla quadra perfetta di tutto quindi al solito una buona via di mezzo partendo dal fatto che intanto bisogna prepararsi prepararsi in questo caso per esempio cosa vuol dire vuol dire incominciare ad avere le nostre liste preparare le nostre liste le nostre liste di cosa sono fatti i nostri clienti attivi i nostri ex clienti e tutte le persone che abbiamo in database più o meno vicino lontano in questo momento non suddivise per forza per sesso età eccetera eccetera proprio avendo tre macro aree fondamentali con cui comunicare se siamo aperti o chiusi andremo a vedere in che modo poi differenziare il tutto ma in realtà non cambia se abbiamo una lista abbiamo l'opportunità di poter contattare comunicare in maniera diretta con le persone che sono appunto in quella lista e in questo caso prima di tutti i clienti quindi i tuoi clienti che sono fondamentali se in questo momento sei aperto e stanno già frequentando i tuoi clienti capisci bene che il tutto questo retto è proprio lì sono già all'interno poi ce ne sono altri che magari non stanno frequentando ma lì dobbiamo utilizzare il nostro database la nostra lista clienti attivi per far frequentare i nostri clienti per assicurare i nostri clienti il servizio e per incentivare le persone ad allenarsi perché questa è la cosa più importante se siamo chiusi dall'altra parte cosa significa abbiamo visto proprio nei primi giorni in quella stessa lista di clienti attivi erogare il servizio in tutti i modi che possiamo permetterci che siano in video che siano creando dei tutorial se magari non ce la sentiamo di fare della programmazione live quant'altro ma possiamo abbiamo visto di realizzare dei tutorial e inviarli direttamente se abbiamo un blog e siamo chiusi è uguale creo i miei allenamenti per iniziare o per continuare a tenerti in forma visto che il club in questo momento è chiuso e li pubblico con un articolo e poi con dei video esplicativi quindi lo faccio da quella parte e sto ancora comunicando solo esclusivamente con i miei clienti attivi se in questo momento sono aperto 100% sono lontanissimo dalle zone focolai e devo solo esclusivamente combattere la paura della paura nella testa delle mie persone devo partire dai miei clienti attivi che stanno frequentando stimolando quelli che non stanno frequentando attraverso mail attraverso contenuti che invio attraverso video che spingono al ritorno in palestra a frequentare il club a generare sicurezza a dare fiducia attraverso anche quello che abbiamo visto i nostri protocolli sanificazione attraverso i protocolli di disinfezione quindi tutte queste azioni vanno fatte proprio per il club che in questo momento stanno lavorando e dobbiamo partire da loro cioè nel caso che dai tuoi clienti che in questo momento frequentano per poterne generare altri quindi non significa che in questo momento dobbiamo farci prendere dal caso da quella che adesso non ricordo brian 3 si chiama la legge del caso adesso non so se sua direttamente ma ricordo che in un testo l'alessi ed era proprio così la cosa dobbiamo capire non è che allora dobbiamo né da una parte sperare né dall'altra stare lì a dire vediamo il caso il fatto che cosa ci darà se torneranno non torneranno dobbiamo essere pronti a lavorare nella maniera certa nella maniera precisa nello stimolare costantemente questi clienti questo perché perché da una parte dobbiamo far ritornare tutti i nostri clienti attivi e questo riguarda anche chi riaprirà da lunedì ragazzi perché non è che poi lunedì postarello su facebook siamo aperti sti cazzi cioè noi se vogliamo essere forti lunedì martedì mercoledì alla fine delle ordinanze noi dobbiamo essere forti adesso e presenti adesso modo tale che poi sarà una conseguenza naturale l'arrivo quindi non generando paure ma al contrario dimostrando sicurezza e dimostrando di avere tutto sotto controllo stessa cosa per chi in questo momento è aperto io ogni tanto chiaramente suddivido le cose ragazzi però mi affido alla vostra capacità in questo momento di comprendere che alcune cose riguardano per chi è assolutamente aperto altre cose riguardano per chi assolutamente chiuse per chi in questo momento nella situazione ibrida quindi sappiate scegliere secondo quello dove vi trovate ok questo è fondamentale però in particolar modo per chi è aperto in questo momento ragazzi l'80 per cento credo che sia aperto dei club 70 per cento 75 perché poche sono le regioni in realtà si sono regioni grossi ma sono poche le regioni che hanno proprio dato la chiusura 100 per cento sono tantissime sono aperti ma hanno un calo e da una serie di dati che mi sono stati dati in questi due giorni ho raccolto dati contattando diverse aziende abbiamo un tasso di frequenza che chiaramente è diminuito in maniera forte più si va verso nord più è diminuito più si va verso sud è diminuito in maniera blanda ma comunque è diminuito ma quello che è diminuito spesso e volentieri è la testa dell'imprenditore perché dove non c'è nessun tipo di problema è un fattore di testa lì dobbiamo essere assolutamente forti assolutamente precisi e dobbiamo continuare a fare le nostre azioni ricordando il nostro lavoro il nostro lavoro è quello di fare impresa in questo settore di farlo nella maniera corretta e di stare sempre vicino ai nostri clienti quindi nell'erogare i servizi e quindi tornando il passo indietro nostri clienti clienti attivi stimolando i nostri non frequentanti all'azione creando anche delle azioni particolari dando tutto quello che in questo cercando di comprendere perché non stanno frequentando che quindi non iniettiamo paura inutile verso il virus magari non stanno frequentando perché c'è una parte non frequentanti che in maniera naturale non frequenta quindi non andiamo a installare o instillare paure che non esistono ok ma andiamo verso chiaramente andando a risolleticare l'idea del movimento chiaramente garantendo tutto il resto cioè dando sicurezza e facendo vedere che già altre persone si allenano e che lo fanno in maniera costante poi altra cosa partendo proprio dai nostri clienti clienti che si sentono sicuri clienti che sono in piena sicurezza persone che stanno frequentando in maniera tranquilla il vostro club sono quei clienti su cui mi devo basare per ripartire quindi stimolando il referral un cliente soddisfatto che in questo momento comunque continua a frequentare il centro è un cliente che può aiutarvi a portarvi altri clienti quindi dobbiamo continuare in maniera regolare ad erogare non solo il servizio ma erogare il nostro marketing non rimanendo rincoglioniti adesso aspettiamo che tutto passi ma rimanendo lì vivi attivi e vigili a lavorare nella maniera corretta ora capisco che non è una cosa simpaticissima però bisogna farlo non è simpatico il fatto che magari io dica così però ragazzi bisogna svegliarsi un attimino ok io so che ci sono imprenditori lì fuori che stanno vivendo le difficoltà ok e siamo qui ragazzi siamo qui però questo non deve trasformarsi in un vittimismo insano che non ci porta a nessuna parte il periodo per qualcuno sarà durissimo lo sappiamo ed è lì che dobbiamo tirare fuori le palle sei un imprenditore li hai già tirate fuori le palle più di una volta nella tua vita questa è un ulteriore occasione per dimostrare a te stesso chi sei ok e per dimostrarlo anche al mercato stesso e quindi lotta per la tua azienda per la tua attività e soprattutto per il benessere dei tuoi clienti con azioni concrete e quindi la prima azione da fare è il referral e come ho detto all'inizio database se io oggi non ho un database la prima cosa che devo fare è crearmelo tutte le persone che sono iscritte devo riuscire ad avere tutto tutti i dati possibili e immaginabili per poter comunicare in maniera costante e in maniera privata quindi senza dover utilizzare per forza i social con i miei clienti quindi lo devo fare per poter anche suddividere perché come abbiamo visto adesso clienti attivi o una comunicazione da fare clienti attivi non frequentanti devo stimolarli alla frequenza clienti ex clienti devo solleticare il desiderio di allenamento li devo invitare ad allenarsi dall'altra parte miss persone che sono venuti a chiedere informazioni o che le hanno chieste anche online devo stimolare il loro il desiderio di iniziare l'allenamento e poi iniziare allenamento nella mia palestra quindi devo riuscire a fare questa cosa la devo fare in maniera costante anche adesso soprattutto adesso dando costantemente dei contenuti utili a comprendere non solo l'importanza dell'allenamento ma sempre con i soliti metodi più importanti cioè quale risultato riusciamo a offrirgli quale obiettivo possiamo aiutare a raggiungere quale desiderio possiamo aiutare a risolvere o meglio ad ambire quale problema riusciamo a risolvere grazie all'allenamento al movimento in palestra questo lo dobbiamo fare in maniera costante con i nostri articoli del blog con le nostre mail con i nostri contatti con tutti i contenuti che possiamo creare non solo sui social ma anche sulle nostre piattaforme private ovvero sul blog sulle mail e su tutto quello che ci dà la possibilità di comunicare in maniera diretta con i nostri clienti soprattutto non dimenticando di farlo perché questo è un altro problema cioè dobbiamo ripeto pianificare in questo momento preparazione azione ma in mezzo ci sta pianificazione cioè pianifichiamo cosa accadrà ancora per questa settimana cosa dobbiamo fare per la prossima cosa dobbiamo fare per la prossima ancora è proprio oggi pomeriggio uscirà un articolo direttamente sul blog di richfit dove troverete una mini guida davvero interessante è una mini guida che vi aiuterà a comprendere qual è il momento perfetto per abbonarsi quindi per far iscrivere il vostro cliente quindi troverai tutti gli step da fare per poter aiutare i vostri utenti vostri potenziali clienti le persone che insomma sono interessate all'allenamento o in questo momento non sanno ancora di esserlo ma vi aiuterà a comprendere tutti i passaggi e tutti gli step dovete fare quindi non solo richfit breakfast appunto tra ormai 40 minuti ma anche un articolo proprio oggi pomeriggio l'avevamo già promesso ieri via mail ma gli arriverà direttamente oggi pomeriggio e avrete anche questa mini mini guida ulteriore sempre per avere proprio contezza di quello che dobbiamo andare a fare perché questo momento in cui bisogna fare e poi bisogna avere anche il coraggio di fare io so che lo vedete ragazzi lo sottolineo semplicemente per non dimenticarcelo per ricordarlo anche a me stesso va bene e bisogna avere coraggio e il coraggio significa continuare con la stessa determinazione di sempre non significa non avere paura di quello che potrà accadere qualcosa potrà accadere potrebbe accadere qualsiasi cosa ma non li possiamo controllare questi aspetti tutto quello che possiamo controllare dobbiamo agire con determinazione e perseveranza noi possiamo controllare le mail sì possiamo controllare i contenuti delle mail sì allora lo dobbiamo fare possono essere d'aiuto i nostri clienti sì cosa devo fare pensa al tuo cliente in questo momento il tuo cliente che cosa ha bisogno quello che sta frequentando cosa può fare per te può darti ancora dei soldi possiamo mandarlo in sviluppo possiamo creare qualche programma apposito per lui e quindi trarne direttamente un fatturato quindi possiamo andare direttamente in vendita sì bene facciamolo facciamolo subito questo cliente soddisfatto può presentarmi portarmi altri amici adesso sì facciamolo ho dei pass per farlo sì diamoli cioè dobbiamo costantemente lavorare cioè non è che ci fermiamo dobbiamo costantemente farlo questo momento sono chiuso sì ok sto mandando posso controllare la chiusura no non facciamo come alcuni che purtroppo l'hanno fatto ieri ho letto la notizia ieri notte poi non l'ho postata anche perché non mi sembrava il caso un ragazzo che purtroppo è un 33 anni nei guai nel barziese l'ecco leggo qua sul val susa news la palestra in città era aperta nonostante l'obbligo di chiusura quindi il rischio è anche l'arresto addirittura quindi ragazzi c'è coraggio non significa essere rincoglioniti coraggio significa agire secondo quelle che sono comunque le regole quindi non significa gestire anche la paura ok ma non significa diventare persone che fanno vanno contro la legge quindi se c'è ordinanza di chiusura siamo chiusi mi pare ovvio giusto però dico i nostri clienti attivi cosa posso controllare anche se sono chiuso il fatto di poter comunicare con loro lo faccio lo faccio in maniera costante avremo la riapertura se io sono stato vicino posso poi ricontattarli nuovamente per iniziare l'allenamento insieme posso anche fare la mia telefonata tutto il mio team nelle prime ore dell'apertura magari sarà ancora non proprio nel fiore dell'attività allora mi aiuteranno anche loro telefonicamente a contattare i miei clienti perché voglio dare il servizio ma questa è la cosa che dovremmo fare anche in questo momento la palestra è chiusa ma magari i collaboratori possono lavorare in palestra allora utilizziamo tutti i canali che abbiamo a disposizione per poter comunicare costantemente con i nostri clienti perché facendolo fa tutta la differenza del mondo in questo momento roberta è uscita sui giornali adesso alcuni blog hanno riportato la notizia sta continuando a erogare il servizio dei clienti è chiuso sì ma stiamo continuando a lavorare e aspettiamo l'apertura per boom nel momento in cui ci sarà l'apertura schiacciamo il piede sull'acceleratore ma siamo costantemente vigili verso di loro quindi una cosa che dobbiamo fare in maniera costante che possiamo aspettare il miracolo del mondo noi dobbiamo agire e lavorare nella maniera costante quindi prima di tutto database lista cioè non la dobbiamo mai perdere di vista è preparazione per comprendere cosa devo andare a pianificare in queste settimane la prima settimana la seconda settimana quindi ci sarà la riapertura cosa devo fare quale mail devo mandare quanti post devo scrivere che video posso fare devo telefonare i miei clienti quelli che ancora non sanno che sono riaperto li contatto quali azioni devo fare quali lezioni è meglio riattivare che cosa c'è da pompare in questo prima di chiudere quali erano le lezioni che andavano un po meno quali clienti mi hanno segnalato determinate cose cioè in questo momento è un momento per poter veramente ripianificare tutto e partire a bombazza proprio già da lunedì o martedì quando sarà dato la possibilità di ripartire qualora dovessero bloccare noi andiamo a riprogrammare quella settimana nella maniera migliore possibile per continuare a erogare servizio per fare degli incontri all'era aperta per fare delle passeggiate per fare dei mini mini eventi perché gli eventi sportivi sono bloccati ma dei mini nel senso tre quattro cinque persone all'aria aperta al parco che si vedono per allenarsi è un servizio che possiamo dare ok potremmo fare sos fitness ci mettiamo al parco a disposizione con tutto il nostro team e tutte le persone che vogliono arrivano là si allenano e poi vanno a casa quindi senza alcun problema lo facciamo all'aria apertissima con degli spazi piuttosto ampi ci diamo delle regole di sicurezza stiamo tre metri e mezzo distanti l'uno dall'altro ma possiamo continuare a fare in maniera tranquilla facciamo delle lezioni di tai chi in città facciamo le lezioni anche qualcosa di semplice dove non per forza c'è il super sudore o quello che è percepito come super ma facciamo qualcosa altro magari anche più legato a quello che è l'olistico ma pubblicizziamolo facciamoci del marketing aiutiamo le persone allenarsi a vivere queste esperienze per poi al solito nel momento in cui saremo pronti a rientrare a casa che è la cosa più importante perché ricordiamoci che comunque il successo non arriva per caso quindi non è tutta botta di culo e quindi siamo sfortunati se arriva l'ordinanza o meno oppure se la gente non ha voglia allenarsi eccetera il successo arriva a chi ha voglia di farsi il culo e questo è uno di quei momenti dove non bisogna farsi abbattere ma al contrario bisogna essere super cazzuti al mille per mille i nostri 25 minuti insieme ce li siamo fatti e credo di aver detto tutte quelle che erano le news rispetto agli articoli e poi il podcast è l'articolo di oggi pomeriggio quindi questo ve l'ho detto assolutamente ne sono certo fatemi sapere nei commenti ragazzi se in questo momento ritenete innanzitutto cosa ne pensate di quello che stiamo facendo in Richfit quindi mi farebbe piacere sapere la vostra se ritenete che sia stata utile anche questa live non solo a voi ma può essere d'aiuto a un vostro collega a un vostro dipendente o al vostro titolare taggateli senz'altro condividete tranquillamente questa live sui vostri gruppi o su quello che è la vostra paginetta o su quello che è il vostro profilo proprio per poter aiutare anche altri imprenditori o altri trainer o altre persone insomma che ne hanno necessità di poter attingere avere informazioni ok quindi basta seghe mentali basta illusione su qualcosa che cambierà non speriamo in indennizi da parte del mondo l'unico indennizzo che possiamo avere dalla vita è quello dato dal culo che ci facciamo ed è direttamente proporzionale ragazzi giusto che lo sappiate quindi non stiamo nella speranza che tutto si riattivi dobbiamo essere noi forti a dimostrarlo coi fatti coi fatti cosa vuol dire prima di andare in chiusura e prima di salutarci e in questi giorni ci sarà ne abbiamo scritto anche nel podcast se non sbaglio c'è l'inaugurazione del centro MECFIT a Catania che non è stata annullata quello è un fatto no? dimostro che si va avanti nella vita c'è stata l'inaugurazione l'altro ieri di alcuni centri dove il presidente della tecnologia mi ha presenziato direttamente è un fatto cioè quindi direttamente è andato non è andato con mascherine è andato direttamente l'inaugurazione ma era presente e tutte le attività sono in questo momento attive tranne quelle che vengono bloccate dall'alto tutto il resto è attivo proprio sono dei fatti ok? proprio sono dei fatti che noi dobbiamo dimostrare se in questo momento il nostro club è aperto noi con i fatti dobbiamo dimostrare ai nostri clienti che non c'è paura non dicendo niente paura dobbiamo dimostrarlo coi fatti i fatti sono il fatto di far vedere le persone che si allenano il fatto è il fatto di far vedere i protocolli di disinfezione e sanificazione il fatto è il fatto di far vedere e sentire la nostra presenza la nostra avvicinanza il fatto che noi siamo lì pronti a lavorare sempre al fianco dei nostri clienti sempre al fatto di stare accanto i nostri utenti che ci hanno già scelto che ci hanno pagato l'abbonamento che sono persone che sono state vicine a noi è con i fatti che noi dimostriamo non è soltanto raccontandolo e poi dando anche contenuti di conforto sul gruppo su questo gruppo tutti i giorni vi sto postando tutte le notizie che possiamo utilizzare per il nostro content marketing in palestra rispetto a tutti i consigli su continuarsi a allenare sui rischi bassissimi di stare in palestra su tutto quello che è realmente accaduto ve li sto postando direttamente io ma li potete utilizzare li dovreste utilizzare per ulteriormente dare conforto ai vostri clienti questo che facciamo che dobbiamo fare in maniera costante non dobbiamo dimenticarlo mai questo è quello che dobbiamo assolutamente fare quindi just do it ok ragazzi facciamo 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 buona giornata a tutti e un grande saluto da Emanuele di Richfit ci vediamo nei prossimi giorni e sicuramente con i prossimi post della giornata se avete necessità non dimenticate assistenza a chioccio alla titolare felice.com oppure scrivete direttamente qui nei commenti come state d'accordo ragazzi un abbraccio ancora è in gamba e soprattutto non perdiamo di vista quella che è la nostra direzione quelli che sono i nostri obiettivi quello che dobbiamo fare tutti i giorni come imprenditori non perdiamo la strada rimaniamo lucidi ok buona giornata ancora ciao ragazzi siete degli eroi sul serio siete degli eroi ciao 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 ciao